Una delle aziende vitivinicole più interessanti dell'intera Valpolicella è Cecilia Beretta. Di proprietà della famiglia Pasqua, nasce agli inizi degli anni Ottanta per riscoprire la forza e la personalità dei migliori vini veronesi. La produzione valorizza i vitini tipici della zona e le antiche tecniche tradizionali, come quella dell'appassimento delle uve. Per una produzione limitata a 200.000 bottiglie di grande pregio. I vigneti aziendali si estendono per 89 ettari nell'anfiteatro di Vallate e Colli della Valpolicella fino ad arrivare alle terre vulcaniche delle colline del Soave. Tra le etichette di punta dell'azienda spicca l'amarone classico della Valpolicella, terre di Cariano, prodotto con le uve dell'omonimo vigneto, situato a sud del paese San Pietro in Cariano, nella zona di produzione più antica di questo splendido vino. Dopo due anni di maturazione in legno e un ulteriore affinamento in bottiglia, il terre di Cariano si presenta come un vino nobile ed elegante, dal colore rubino intenso. Conquista con profumi complessi di frutti di bosco e confettura di more, a cui si aggiungono note di spezie, cacao e caffè, e con un sapore ricco e persistente. Un vino morbido e ben equilibrato, da gustare come vino da meditazione o insieme a formaggi stagionati come il Monte Veronese Stravecchio.